Il provvedimento contiene numerose misure, tra le quali la proroga fino al 2018 delle concessioni per gli ambulanti e le nuove assunzioni poco meno di mille unità nella polizia penitenziaria, prorogati fino al 2019 anche i contratti dei precari dell'Istat e la possibilità per le isole minori di istituire da quest'anno una tassa di sbarco di 2,5 euro, mentre slitta il 1 novembre di quest'anno l'avvio della sperimentazione della lotteria nazionale legata agli scontri nei compagamenti elettronici. Questo governo dimostra il fallimento con mille proroghe, problemi che non vuole risolvere in maniera definitiva, anzi utilizza per metterci dentro marchette e favori ai partiti, ancora una volta senza far discutere il Parlamento. Domani mattina il voto in commissione sugli emendamenti, nel pomeriggio è previsto l'arrivo in aula. Sul decreto che scade a fine mese e ha già avuto il disco verde del Senato, il governo dovrebbe chiedere il voto di fiducia.